Ciao! Questo è un video diverso dal solito perché non lo dico mai prima di partire con il video, ma metti un like innanzitutto e una volta finito il video commenta facendomi sapere quale dei sintomi hai. Mi raccomando, adesso sigla e partiamo subito con il video! 3. Hai o vuoi fare un tatuaggio con una mappa, un aeroplano o una bussola? Insomma, un tatuaggio dedicato al mondo dei viaggi. 4. Conservi almeno una moneta da ogni posto che hai visitato. 5. Utilizzi continuamente l'opzione di ricerca ovunque nei motori di ricerca di viaggi. 6. Restare in un solo posto per tutta la vita ti sembra il peggiore degli incubi. 7. In effetti anche l'idea di rimanere in un solo posto per più di un anno ti sembra insopportabile. 6. Sei un professionista nel dormire ovunque. 9. L'attualista dei desideri recita semplicemente mondo. 10. Dovunque vai, quella è casa tua. 11. Consulti periodicamente le offerte per le destinazioni e i voli. 12. Non sai cosa significa l'espressione ci siamo persi. È solo un'altra avventura. 13. Lo sfondo del tuo pc e del tuo smartphone sono un luogo che vorresti visitare. 14. Molti dei tuoi amici vivono all'estero. 15. Viaggiare da solo non è un problema. 16. Non ti scomodi a disfare le valigie, tanto riparti presto. 17. Il tuo passaporto è uno dei tuoi tesori più preziosi. 18. Sei un esperto nel fare i bagagli. 19. I codici degli aeroporti sono la tua specialità nei quiz con gli amici. 20. Collezionare miglia aeree e punti frequent flyer è il tuo sport preferito. 21. Sai misurare occhio le dimensioni dei bagagli. 22. Passi ore su siti e blog cercando ispirazione per la prossima meta. 22. Passi ore su siti e울 easy. 22. Passi ore su siti e immagini di paghi. 23. Passi ore su siti e spr Zero time sna accadBC al halo edut Bibli Grazie a tutti